L'ASL di Salerno sospende la convenzione alla Croce Azzurra, ribadendo in tutte le sedi giudiziarie la propria capacità di assicurare continuità ed efficienza nei servizi di emergenza territoriale, lamentando finanche danni d'immagine, ma si rivolge alla ONLUS agropolese per soccorrere una paziente obesa. L'episodio è avvenuto sabato mattina, quando, su richiesta della Centrale Operativa del 118 di Salerno, veniva attivata su Eboli l'ambulanza bariatrica della Croce Azzurra di Agropoli, unica nella provincia equipaggiata per soccorrere i grandi obesi, emergenze non facili da gestire. Sul posto erano state già attivate due ambulanze medicalizzate, le cui equip però richiedevano l'attivazione della bariatrica in dotazione al personale della Croce Azzurra di Agropoli, la quale, seppur non più in servizio per conto dell'ASL, prontamente interveniva sul posto, con personale addestrato ad assicurare alla paziente, una signora di 64 anni di Eboli, del peso di circa 240 kg, la dovuta assistenza. La donna, che accusava forti dolori addominali e insufficienza respiratoria, è stata così trasportata in sicurezza presso l'ospedale di Eboli. Un soccorso speciale che mette in discussione, dunque, la effettiva capacità dell'ASL di assicurare la copertura dell'emergenza territoriale in tutte le sue criticità. A riguardo, ad esempio, destra per pressità il fatto che la postazione di Licinella a Capaccio Pestum sia rimasta sprovvista di unità riarimativa, dislocata solo ad Agropoli e proveniente da Salerno. Dall'ASL, però, fanno sapere che la situazione è sotto controllo.